Un'azienda di Andalo Valtellino, 10 studentesse dell'Istituto Romegialli di Morbegno e un noto gruppo sondriese composto da 5 cantanti. Un mix in grado di dar vita a un progetto sfavillante che avrà il suo culmine nel nuovo videoclip delle Ladies Gang, formazione musicale tutta al femminile, questa volta impegnate con un classico della tradizione natalizia, Jingle Bell Rock. A vestirle gli abiti natalizi realizzati dagli studenti. Oramai numerose le apparizioni in tv di Nicola Castelli, Simona Mazza, Marta Menozzi, Consuel Orsinger e Bruna Vergottini, un repertorio in loro dal gusto frizzante, coinvolgente ed ironico. Esplosivo l'entusiasmo da parte di tutte le persone coinvolte nel progetto. È un progetto nato da un'idea di creare qualcosa di un po' diverso sull'alternanza scuola-lavoro e quindi appunto abbiamo proposto all'Istituto Rome Gialli la sezione tessile di creare degli abiti realizzati con i materiali che utilizziamo appunto per addobbare normalmente l'albero di Natale e poi la cosa è diventata un po' più grande. Abbiamo chiesto alle Ladies Gang se erano disponibili a indossare questi abiti e quindi renderli vivi. Sono veramente felice di far parte di questo incredibile progetto che ha messo insieme tante eccellenze della Valtellina. Abbiamo degli abiti meravigliosi creati appositamente per noi grazie a Valtpino e grazie a delle sarte strepitose piccole piccole, giovani giovani ma con il lavoro che hanno fatto sicuramente cresceranno. Tante eccellenze, tante donne per rendere un Natale speciale, luminoso e pieno di amore. Un duro lavoro che ha portato i suoi frutti. Ognuna delle Ladies Gang ha avuto una propria sarta a disposizione che ha creato un vestito diverso cercando di cogliere lo stile originale della cantante che avrebbe dovuto rappresentare. Noi le ragazze, queste donne non le abbiamo mai viste di persona perciò abbiamo dovuto prendere appunto spunto da internet per organizzare appunto il lavoro e niente comunque alla fine dopo appunto aver guardato su internet abbiamo realizzato i vestiti e la cosa diciamo più complicata è stata appunto applicare le stelle di Natale o comunque le piogge. Il video di Natale delle Ladies Gang girato negli ambienti dell'azienda Valtpino ditta di andalo promotrice dell'iniziativa è reperibile su YouTube.